Ad Agrigento, nella Valle dei Templi, si è concluso un corso di potatura e innesto su iniziativa della cooperativa sociale Al-Karub, che si occupa di ragazzi stranieri non accompagnati, in collaborazione con il Parco della Valle dei Templi e l'azienda Valparadiso, concessionaria per la manutenzione degli ulivi secolari della valle da cui si ricava l'olio Diodoros. Ascoltiamo in proposito il presidente della cooperativa Al-Karub, Carmelo Roccaro. Siamo alle battute finali del corso di potatura e innesto inserito nel progetto Youth & Food. Questo è un progetto nazionale che si svolge tra Torino ad Agrigento ed è rivolto a 60 ragazzi stranieri non accompagnati. Sono percorsi di formazione e di accompagnamento al co-housing per minori e neomaggiorenni nella filiera agroalimentare. E' importante questo progetto che è finanziato dall'impresa sociale con i bambini. Abbiamo Slow Food International come capofila. Qui su Agrigento abbiamo la cooperativa Al-Karub che si sta occupando della formazione, insieme alla cooperativa sanitaria Delfino che ospita i ragazzi, il centro per l'impiego e il CIPIA di Villa Seta. Questo corso è particolarmente interessante dopo quelli di cucina e apicoltura che abbiamo fatto da Agrigento, anche perché metterà direttamente in contatto i ragazzi con le aziende agricole che hanno necessità di trovare personale specializzato che non riescono più a trovare sul mercato. Questo corso viene organizzato dall'azienda Valparadiso che è la titolare della tenuta dei ulivi secolari che abbiamo all'interno della Valle dei Templi, in questo bellissimo scenario. A tal proposito ringraziamo l'ente parco Valle dei Templi proprio perché ci ha ospitato all'interno dei suoi locali a Casa San Filippo dove fare le lezioni teoriche, ma soprattutto ci dà la possibilità di lavorare in campo in questo splendido scenario con queste piante antichissime e molto belle anche da vedere. Bene, questa formazione di potatura è troppo interessante, questo è molto importantissimo, mi piace. Il lavoro di potatura è un buon lavoro, mi piace troppo, questo è bellissimo. Questo lavoro è buono. Aspetta che cosa ho dimenticato a finire. Aspetta.